Quella che sto per esporvi non può essere considerata effettivamente una teoria, in quanto non si base in nessun modo su dati o evidenze scientifiche. L'argomento è già di per sé difficile da trattare, parliamo infatti della vita dopo la morte, ma da un punto di vista differente da come viene spesso trattato, ovvero dal punto di vista dell'astrofisica. Dobbiamo prendere il discorso da molto alla lontana, esattamente dalla nascita dell'unità dell'universo, sì, proprio il Big Bang. Quando lo scienziato Hubble scoprì l'espansione dell'universo, egli pensò subito che dopo un'iniziale espansione si sarebbero potute verificare due opzioni. La prima implicava il fatto che a causa della massa e dell'energia in gioco, l'universo si sarebbe espanso all'infinito, raffreddandosi per poi rallentare fino a dissolversi. L'altra opzione teneva conto della forza di gravità che avrebbe in un dato momento frenato tale espansione, fino ad invertire questa espansione in una compressione. Questa era la teoria del Big Crunch. Potete immaginare la sorpresa dei cosmologi quando dopo numerose osservazioni si resero conto del fatto che entrambe le due teorie erano state smentite dall'osservazione diretta. L'universo era ed è in continua accelerazione. Ma questo cosa c'entra con la vita dopo la morte? Qui il ragionamento si fa ancora molto più complesso. Sappiamo che nessuno ha mai comunicato con l'aldilà, ma nemmeno qualcuno ha mai comunicato con gli alieni. Però il fatto di non poter comunicare con essi non ne esclude l'esistenza. Sappiamo anche che numerose culture credono nell'esistenza di una vita dopo la morte. E alcune di queste non prevedono nemmeno l'esistenza di un dio o di una divinità. Tra queste religioni è ad esempio il buddismo. Ma vediamo al punto. Se fosse impossibile comunicare con il mondo dei morti semplicemente perché questo ancora non esiste? Ascoltate bene. Se la fine dell'universo coincidesse con la nascita di un nuovo universo? E se questo nuovo universo fosse una coppia esatta di quello precedente? Ogni atomo, ogni interazione, dal più piccolo bosone fino al più grande ammasso di galassie, sia nello spazio che nel tempo, sarebbero destinati a ripetersi, compresa la nascita della vita sulla Terra, la comparsa dell'uomo e poi noi, la nostra vita e inesorabilmente la nostra morte. E poi, dopo eoni, lo stesso ciclo, la stessa ripetizione e poi ancora, ancora all'infinito, come un nastro che giunto alla fine si rianfolge per ripartire da capo. Se così fosse, chissà quante volte abbiamo già vissuto la medesima situazione, ma non possiamo fare nulla per cambiare un fatto che non ci aggrada. E' possibile che queste ipotetiche copie del nostro universo siano in grado di comunicare in qualche modo tra di loro? Qualche tempo fa, alcuni scienziati avrebbero individuato una sorta di increspatura nello spazio-tempo. Come una sorta di impronta fantasma lasciata da universi passati e quando un preciso momento del nostro spazio-tempo coincide con una di queste increspature, potresti che interagiscono in qualche modo, dando vita, ma badate bene, è solo un'ipotesi, a quel fenomeno che noi definiamo déjà vu. In qualche modo, le sinapsi o i neuroni del nostro cervello potrebbero sintonizzarsi con la traccia mnemonica preesistente, dando vita ad un falso ricordo di qualcosa che sta avvenendo esattamente in quel preciso momento. Come più volte detta, questa non è nemmeno una teoria. E' solo un'ipotesi e difficilmente si troveranno dati o evidenze che possano in qualche modo confutare questa possibile spiegazione di quella stranissima sensazione che troviamo quando abbiamo l'impressione di aver già vissuto un determinato momento. Certo, questa non è la vita dopo la morte che ci si aspetterebbe, ma se oltre ad entrare in contatto con i nostri percorsi neuronali, potessimo in qualche modo o in determinate condizioni entrare in contatto con i percorsi neuronali di chi non c'è più? Tra l'altro questa ipotesi spiegherebbe anche come alcuni testi sacri parlino di resurrezione di tutti i morti nel loro corpo fisico se ci pensate bene, ovviamente sempre in un modo diverso da quello che i teologi hanno predicato e predicano. Ci sono migliaia di implicazioni interessanti se per un attimo prendiamo questa ipotesi come credibile, ma se viene in mente qualcuna che non ho citato ditemelo nei commenti sotto il video. Ovviamente ogni critica ben accetta. Bene, questo video si conclude qui. E se avete avuto la sensazione di aver già visto, di aver cliccato sul pollice in su o di esservi iscritti al mio canale e perché lo avete fatto in una vita precedente. Ma se non avete avuto questa sensazione, iscrivetevi comunque e lasciate un commento sotto il video, dicendo cosa pensate a riguardo di questo argomento, curioso ed affascinante. Grazie per aver seguito questo mio video. Al prossimo e ricordatevi di iscrivervi al canale.